Proprio in quegli anni mi recai per la prima volta a Hong Kong, c'era ancora il dominio del governatorato di Chris Patton e la Cina era destinata naturalmente a diventare il dominus di un'ex colonia. Allora Deng diceva una Cina due sistemi, con Xi Jinping siamo a una Cina un solo sistema, indovinate quale.